Gigi, ti ricordi quando c'era la dad? Che bei tempi che erano! Alexa, cambia il nome di attivazione in Gigi. Va bene. Gigi, cambia la voce. Che voce desideri? Voglio la voce di Alberto Angela. Gigi, sono la maestra! Sei pronto per l'interrogazione di storia? Cominciamo questo nostro bellissimo viaggio tra le meraviglie del nostro paese. Ora parlami del foro romano! Bisogna dire che con l'andare dei secoli il foro romano diventò sempre più un centro simbolico. Sei preparatissimo! E che bella voce che hai!